Ma vedo collegati già i nostri tre amici di Miglio Libro, vale a dire Marco De Marco da Napoli, Flavia Capone da Roma via Skype e Lino Patruno da Bari. Tutti e tre, a cominciare da Flavia Capone, che offerta c'è a Miglio Libro questa notte, Flavia? Questa è una puntata, oserei dire, variegata, che mi vede anche abbastanza coinvolta emotivamente, quindi sarà interessante parlare di questi libri. Sentiamo brevemente Flavia Capone e Lino Patruno, poi sentiremo l'autore e Giada Prandi leggerà qualche passo del libro di Bocchino. Flavia Capone. Allora, quello che in questo libro è il titolo posto in maniera affermativa, io me lo sono chiesto tante volte in maniera interrogativa, facendomi tutta una serie di domande e mi sono resa conto che in molti casi si è miopi rispetto a alcune vicende, alcune tendenze del proprio stesso paese e di questo sicuramente rendo conto a Bocchino per questa lucidità nello sguardo. Sicuramente ci sono tante cose che discuterei rispetto alle conclusioni a cui si è arrivati, in particolare forse sarebbe da ragionare un po' di più sul concetto delle derive autoritarie, che credo che sia un po' un qualcosa che avviene nei momenti di crisi, non solo come scelta di campo, ma anche proprio come scelta di reazione rispetto a una paura, a un'insicurezza. Ecco, questo l'avrei forse affrontato un pochino di più, sicuramente. sicuramente.